mi che può andare dal corner tiro parato ancora sulla fascia destra per angelini a centrocampo angelini avanza palla al piede prova il tiro parata del portiere fascia destra vede il movimento in mezzo prova il tiro parata dal portiere ancora buona per eusepi da fuori con il sinistro sfila alla sinistra il portiere nel primo tempo alla buona per il 99 che può pensare alla conclusione la prova e c'è la rete il pareggio con il numero 11 eusepi la intercetta va sulla fascia destra dove c'è sempre di vasta serve bene angelini che entra in aria con il sinistro anticipa e la traversa ancora il numero 15 per correre la correre la ce l'ha sul sinistro prova il tiro da fuori parata del portiere alimenta l'azione di vasta con il cross di prima e calcio d'angolo angelini dialoga ancora con eusepi di vasta buona la palla filtrante per il tiro la grande parata e il riflesso del portiere cerca un movimento dei compagni dialoga prova il tiro e la rete 2 a 1 ritorna in vantaggio alba roma riparte l'urbe palla filtrante intercettata da eusepi allora angelini di nuovo eusepi si allarga prova il tiro e c'è la rete gran gol di eusepi con il destro come in barriera cross in mezzo intercettato dalla difesa ancora eusepi a ripartire dialoga bene con tosti ancora eusepi avanza al limite dell'area tosti la finta e c'è la rete ancora correre la sulla fascia sinistra sempre lui salta un altro avversario va sul fondo può pensare al cross e lo effettua indietro a rimorchio c'è il numero 10 angelini che può pensare al tiro la rete gran gol dopo aver saltato l'avversario la cerenza direttamente dal portiere ancora da di vasta sulla fascia destra il filtrante per angelini che è in aria e c'è l'incredibile autogol ancora intercettato dal numero 15 di vasta per eusepi che in area di rigore prova il tiro e c'è la rete gol del 71 da parte di alba roma per angelini ancora angelini palla al piede dialoga con di vasta aspetta pensa al tiro di nuovo angelini e c'è la rete dall'altro lato del campo avanza palla al piede serve di vasta di prima cerca la cerenza eusepi da fuori e c'è un altro gol di eusepi con il sinistro recupera palla eusepi avanza palla al piede scarica per il compagno angelini il tiro la rete leandri pensa la conclusione la prova buon figlio intercetta ancora l'urbe che preme con gli annini in area di rigore salta l'avversario prova il tiro e c'è la rete ma da tosti eusepi di vasta e c'è il gol tosti ha iniziato l'azione e la chiude lui baroncelli indietro dal portiere leandri entra in aria salta l'avversario e serve giampa per il terzo gol dell'urbe la palla al piede zona tiro per lui ce l'ha sul sinistro prova a servire un compagno e finisce qui 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 Grazie.